Ciao a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati in questo nuovo video. Buon sabato e buon match day a tutti quanti. Oggi si gioca Udinese Juventus. Io devo essere onesto con voi, anche perché i sub sapranno per certo quello che sto per dirvi, ma sto registrando alla sera di venerdì, quindi questo video è stato pre-registrato. Quindi tutto quello che potrebbe accadere poi nella notte, a livello di modifiche, eccetera, eccetera, della probabile formazione, beh, non posso prevederlo. Andremo a discutere insieme un po' quello che abbiamo letto nelle ultime ore, anche perché ormai sta diventando una sorta di tradizione Giovanni Albanese che va a spoilerarci la formazione, la probabile formazione della Juventus. L'ultima volta l'aveva azzeccata in 10 su 11, ne aveva sbagliato soltanto uno, non aveva giocato Savona, al suo posto aveva giocato Cabal. Ed era stata una formazione, quella di Inter-Juventus, che tolta appunto l'idea di schierare Savona come titolare, che poi è diventato Cabal, all'inizio non apprezzavo tanto, successivamente avevo iniziato ad apprezzare un po' di più per via di alcune scelte che mi convincevano. L'unica scelta che proprio non potevo mandare giù era la presenza di Danilo, cosa che domani non dovremmo vedere in campo. Quindi io direi di entrare subito all'interno della discussione, vi mostro quella che è la schermata che ha postato Giovanni Albanese su Twitter, ovviamente griffata Sport Italia, che è il riferimento per il quale lavora, e andiamo a leggercele insieme. Di Gregorio in porta, Cambiaso a sinistra, Calulu e Gatti come difensori centrali, Savona a destra, Turam e Locatelli a centrocampo, UEA a destra, Ildis a sinistra, con Mainers trequartista davanti Vlaovic. Abbiamo diverse cose da dire, partirei proprio da Vlaovic. Perché? Perché nelle ultime ore, prima di leggere quella che è la probabile formazione postata da Giovanni Albanese, era arrivata anche una sorta di idea relativa al turnover di Vlaovic. Secondo alcune testate giornalistiche, secondo alcuni addetti ai lavori, al posto di Vlaovic domani in attacco avrebbe dovuto giocare Bangula. Io vi avevo detto che immaginavo potesse giocarci uno tra UEA e Ildis, ovviamente non per via di informazioni a mia disposizione, soltanto per idea, una sorta di lettura che avevo come quelle che facciamo tutti, ma secondo me succede questo. Io pensavo potessero giocarci uno tra Ildis e UEA. Quando ho letto di Bangula ho detto però attenzione perché questa cosa può essere coerente già con l'Inter proprio, avevamo visto Bangula in quella posizione da centro avanti per cercare di andare a pressare tanto una squadra che partiva spesso da dietro. Ora, non che l'Udinese abbia lo stesso concetto dell'Inter di possesso palla, perché stiamo parlando di due squadre differenti dal punto di vista della qualità del palleggio, maggior ragione della partenza da dietro della palla bassa, da cui inizia l'azione dalla retroguarda, dal portiere, eccetera, eccetera. Quindi Bangula avrebbe avuto tutto un altro impatto. Su questo non abbiamo assolutamente nulla da aggiungere. Però l'idea di far riposare Vlaovic secondo me era corretta anche perché poi mercoledì, martedì, quello che sarà il 5, se non erro, abbiamo una trasferta importante di Champions, diventa ancora più importante per via del risultato che abbiamo fatto nell'ultima partita di Coppa dei Campioni. Una deludente sconfitta con lo Stoccarda che è andata, non dico a complicare definitivamente la nostra corsa Champions, ma sicuramente la messa su un binario differente è molto più complicato rispetto alle prime due partite dove avevamo fatto molto molto bene dal punto di vista delle prestazioni e del risultato. Quindi occhio che sottovalutare il discorso turno verde di Vlaovic potrebbe diventare un problema. Voglio rimettervi un po' questa schermata per andare a ragionare un attimino a reparti. Perché? Vabbè. Di Gregorio ci sta, anche se abbiamo sempre visto fino a questo momento, un Tiago Motta che cambia il portiere prima di una partita di Champions, quindi mi sarei aspettato Perin, sono sincero, questo era quello che ci aveva detto Tiago Motta fino a questo momento. Quindi è una sorpresa vedere di Gregorio nella probabile formazione. Magari cambierà proprio il portiere, se seguiamo l'idea che Giovanni ne sbaglierà uno, chissà. Magari sbaglierà il portiere. Riposerà Cabal. E questa è una notizia. Perché Cabal era tornato titolare, era stato anche uno dei migliori in campo, secondo me, nella partita con l'Inter. E proprio lui, insieme a Danilo, esce dai probabili giocatori che scenderanno in campo al primo minuto. Gli altri sono Calulu, Gatti e Savona. Allora, intanto dobbiamo parlare della fase difensiva. Perché è da due video e con questo diventano tre consecutivi. Che vi dico che principalmente la Juventus deve ritrovare la qualità difensiva. È una cosa che ha detto pure Tiago Motta all'interno della conferenza stampa. Quindi molto bene, sono contento di questo e quindi batterò ancora di più su questo chiodo. Batterò il ferro finché è caldo. E vi faccio una provocazione. Che però, tanto provocazione non è. Se nelle ultime tre partite, e sono letteralmente le ultime tre partite in cui la Juventus è stato a ballare dal punto di vista difensivo. Perché non riusciva più a tenere le distanze del reparto. Non riusciva più a mantenere la qualità difensiva del reparto. Dal punto di vista collettivo. Ha voluto ribadire questo Tiago Motta. Collettivo, però poi un singolo era quello che non c'era mai stato prima. Ed era proprio Danilo. Quindi la provocazione che provocazione lo è fino a un certo punto è la seguente. Secondo voi domani, senza Danilo, la Juve riuscirà a ritrovare la compattezza difensiva? Io credo che, dovesse riuscirci, non si potrebbe più parlare di coincidenza. Traduco. Se domani la Juve fa una buona partita dal punto di vista difensivo, quindi non va a subire così tanti tiri in porta da parte dell'Udinese, difficilmente potremmo ancora dire no, ma non è Danilo. Io sono convinto che non possa essere tutto riassumibile su Danilo, ma che gran parte sì. Sì, e quindi sono delle idee che domani la Juve possa fare una buona partita dal punto di vista difensivo. Dico domani, anche se voi lo vedrete oggi, proprio perché sto registrando la sera. Quindi questa è una piccola scommessa che faccio con voi e sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Calulu è giusto che torni in titolare, Savona attenzione perché potrebbe essere utilizzato in un ruolo un po' particolare. E ve lo spiego qua. Sappiamo per certo che la Juventus stacca uno dei giocatori difensivi dalla linea. Quindi sì, la Juventus in campo lo possiamo disegnare giustamente 4-2-3-1, ma staccando uno dei difensori dalla linea 4 la Juventus va a impostare a 3. E ovviamente il giocatore che spesso e volentieri la Juventus va a staccare è Cambiaso, che in questo caso va a sinistra, non va a destra. Io vi avevo detto, la fascia destra titolare deve essere con 6-7 Cambiaso. Perfetto. La fascia destra titolare domani dovrebbe essere Savona e Weah. Ottimo. Che cosa succede in questo caso? Che Gatti va a impostare come libero, Calulu diventa il centro-sinistra e Savona diventa il centro-destra della difesa 3. Quindi la difesa 3 la dobbiamo interpretare come Savona, Gatti e Calulu, con Savona che va a fare un ruolo un po' particolare, perché abbiamo visto essere un giocatore di spinta, ma davanti Weah è un giocatore che prende l'ampiezza. Quindi difficilmente Savona e Weah potrebbero andare a occupare la stessa casellina in campo. E avremo Savona molto più difensore rispetto a quelle che sono state le sue prime apparizioni. Mi viene in mente banalmente quella di Verona, dove lui stesso andrà a chiudere l'azione due volte. Una volta trova pure il gol per la Juventus, alla sua prima della titolare, con la maglia della Juve in Serie A. E quindi è un giocatore che ci ha dimostrato poter prendere molto quella porzione di campo. Ecco, in questo caso domani dovrebbe essere un giocatore molto più contenuto rispetto a quelle che sembrano essere un po' le sue caratteristiche. Però perché è importante e interessante questa cosa? Perché Cambiaso, andandosi a staccare, potrebbe non solo andare a formare il terzo giocatore a centrocampo insieme a Turama e a Locatelli. Potrebbe semplicemente andare in sovrapposizione a Ildis e andare a formare quel 3-2-5 importantissimo per la Juventus Per un motivo, perché UEA andrebbe a prendere l'ampiezza a destra ed è destro di piede. Cambiaso andrebbe a prendere l'ampiezza a sinistra ed è ambidestro, va bene, d'accordo, ma principalmente Mancino. Ma soprattutto Ildis e Comeners potrebbero stringere dietro Vlaovic e andare a fare i 2-3 quartisti. E io ve lo dico dalle primissime battute di quest'anno, mi ricordo il giorno dopo Juventus-Napoli 0-0. Faccio un video e vi dico, la Juve a livello qualitativo lì davanti arriva al suo massimo se Ildis e Comeners fanno i 3 quartisti alle spalle di Vlaovic. Con Cambiaso e UEA che prende l'ampiezza a tutti e due in quella posizione, lo possono fare. Diverso diventa se Cambiaso entra dentro il campo, Ildis mi fa l'esterno sinistro e uno tra Locatelli e UEA, anzi Locatelli e Turam, si alzano sulla 3 quarti a fare il 3 quartista. In quel caso saremo molto meno coerenti, ma se Cambiaso si sgancia, gioca da esterno, insieme a UEA dall'altra parte, potremmo essere di fronte a un'ottima configurazione per la Juve. Perché andremmo ad avere veramente i giocatori perfetti per fare una fase difensiva di livello e una fase difensiva di altrettanta qualità. Per un motivo, Locatelli e Turam sono due giocatori che vanno fortemente in interdizione. Non abbiamo Fagioli che magari fa un po' più fatica da quel punto di vista, Douglas Lewis che fa un po' più fatica da quel punto di vista. Non abbiamo nemmeno McKennie che in realtà è un giocatore che aiuta in interdizione, un giocatore molto generoso a McKennie in fase di non possesso, ma va a privarci di una sorta di equivoco tattico perché McKennie non è nemmeno un trequartista. Il trequartista però sarebbe con Mainers e questa cosa mi sorprende non poco perché potevo immaginare se proprio proprio con Vlaovic che gioca e non fa turnover eccetera eccetera che potesse essere Ildis quel giocatore lì. Quindi un altro esterno, Pangula con Seyssao, quello che poteva essere. Perché è lo stesso Tiago Motta che ci ha detto che con Mainers non è ancora al suo 100%. Vederlo partire titolare è un grande punto interrogativo a meno che Tiago Motta non stia ragionando sul discorso di un conto è semiparte titolare in Serie A con l'Udinese, che può farlo anche con questa condizione precaria. In Champions League probabilmente non sarebbe pronto per sostenere una partita così importante. Quindi evito di dargli la possibilità di giocare titolare in Champions. Allo stesso modo faccio rifietare McKennie che partirà invece al suo posto in Coppa dei Campioni e allora gioca con Mainers. Però vi dico, lo dico proprio tranquillamente, sono molto sorpreso di leggere con Mainers nella formazione titolare, la probabile formazione titolare, proprio perché immaginavo che non avesse al 100% recuperato dall'infortunio proprio dal punto di vista fisico. Quindi ricapitolando, non mi aspettavo assolutamente questa probabile formazione. Quando l'ho letta è stata una bella sorpresa perché c'erano due o tre robe che non mi tornavano. Però vi dico che è coerente, vi dico che è una formazione che potrebbe fare il suo, perché dal punto di vista difensivo potrebbe ritrovare quell'equilibrio, dal punto di vista offensivo i giocatori con Cambiaso che sta largo a sinistra, perché se Cambiaso entra dentro il campo e si allarga Ildis salta tutto, ma in quel caso potrebbe essere un'ottima configurazione della Juventus per andare a occupare bene gli spazi e aggiungere qualità, ovviamente, negli ultimi metri di campo, perché è lì che poi si fa la differenza sul riuscire a fare gol o semplicemente ritrovarsi con l'ennesima azione inconclusa con la Juventus che deve invece correre all'indietro per evitare una ripartenza dell'Udinese. Attenzione che l'Udinese è su quella cosa lì, è molto forte. Sono curioso di sapere la vostra. Qui sotto nei commenti, gli abbonati a questo video l'hanno visto prima, tutti gli altri lo vedranno domani mattina alle ore 7. Ci vediamo su Twitch, live reaction come al solito, e poi su YouTube per tutti i contenuti post partita. Ciao a tutti!